Il corso di laurea triennale in gestione aziendale apre le porte indubitabilmente alla carriera manageriale. Dal punto di vista esterno offre anche la possibilità di qualificarsi come consulente di direzione. Oggi i temi centrali sui quali il corso è imperniato fanno riferimento a due ambiti principali. Il primo è la gestione del processo decisionale. Il secondo tema sul quale si imperniano i vari insegnamenti del corso è quello della creazione e della distribuzione del valore. Ma ci sono poi altri tre importanti ambiti di conoscenza che sono quello economico, giuridico e matematico-statistico. Abbiamo realizzato nell'ambito dei singoli insegnamenti quelli che noi chiamiamo i labo, i laboratori operativi. Che altro non sono che momenti di formazione basati su metodiche didattiche innovative quali il role playing, la discussione di casi, i business game. Abbiamo individuato una serie di profili professionali tipici, ovviamente non esclusivi, ma caratterizzanti questo corso di laurea che vanno dall'esperto di business model all'esperto di creazione e distribuzione di valore, all'esperto di turnaround per offrire analisi sui processi di crisi e risanamento aziendale, all'esperto contabile e la nostra aspettativa è di offrire a questo territorio una figura professionale polivalente, molto formata sulle competenze di base di gestione aziendale e in grado di inserirsi sia nel mondo delle organizzazioni for profit che in quello delle organizzazioni no profit. Grazie per la visione!